da non essere in grado di ritornare il caso a me è successo qualche successo, il quattro è facile a non essere veloce come giunta catà qualcuno si sente male e ci ha vomitato Da quella sera sono passati inicia e a casa non ci sono ancora da ornare, fin fa tempo ho conosciuto suonatori professionisti di blackstone, cento del laureato al conservatorio e mi ha spiegato come canzano la suona. Il contributo di gente che mi racconta di essere stato in vacanza è il quinto continente, il sesto continente, quello che è fatto solo di spazzatura e si trova su spermetto al fascifico della stagione di gioco, è l'isola di mortizia e se ci stai la mattina sulla spiaggia vedi i suonibili di plastica e illuminati dal sole sembrano tranquilli. Alcune donne scimmia mi hanno salvato la vita, ero da solo in strada di notte e mi hanno volto per le loro camere da letto. Ok, a toccarli, il loro corpo sembrava un sacco di santo. Tra l'ora è ragazzo lo stesso. Mi sono tutti i piatti delle loro camere, ho scritto parte della mia storia con un peccato e mi hanno avuto un calico. Mi potrei fare che si cancellassero solo dopo qualche giorno. Ho conosciuto una persona che vuole la diventura dei gesti e con questo gesto ha cominciato a vivere festeggi sui luci. E' un po' che non vada a un piede. E' un po' che non vada a un piede. E' un po' che parte di un po' che si avvolte il successo finale. A fuori di una cosa che non vuole, posto di un milano delle scelte. E' un po' che parte di un po' che si avvicinano con un po' che si avvicinano. e nel posto futuro dal porto del fondo, con questa sanzialiera. Un grosso nocceano. Ho incontrato un evascio. Il tempo che l'ha scappato... Ma lo sapete? Come lo tenevo? Un legato a questi strutti. Con cinture, un orologio. Una roba più fatta. Anche da un evascio. In ogni posto, basta vedere. Ho incontrato una donna che mi ha spinto ad andare avanti, questa sera sono finita, non so dove è tanto finita, non se c'è una donna a scelta che si possa aggostarmi per una donna e sarei ben felice. Grazie a te a mano calda e a mezzo a me di slide, questo è un progetto a te, ci chiamiamo di letto drame e ci chiediamo di incontrare presto.